Innanzitutto oggi due dati positivi. Diminuiscono il numero dei ricoverati nei reparti ordinarie e il numero dei ricoverati nelle terapie intensive. Il totale delle persone attualmente positive è di 91.246 persone con un incremento di 2.972 pazienti rispetto a ieri. Di questi 3.977 sono in terapia intensiva con una diminuzione di 17 unità rispetto a ieri e 28.949 sono ricoverati con sintomi. Anche qui registriamo una diminuzione di 61 pazienti rispetto a ieri. La maggior parte dei pazienti positivi, in totale 58.320, pari al 64% del totale, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Per quanto riguarda i deceduti, oggi registriamo 525 nuovi deceduti. È il numero più basso di deceduti rispetto alla data del 19 marzo, dal 19 marzo ad oggi. Il totale dei guariti è di 21.815 pazienti. Rispetto a ieri le persone guarite sono 819 in più. Per quanto riguarda la CROSS, risultano trasferiti alla data di oggi 116 pazienti dalla Lombardia, di cui 76 pazienti afflitti da coronavirus e 40 pazienti non colpiti dal coronavirus. Un'altra buona notizia è quella che da oggi si interrompe il trasferimento dalla Lombardia verso altri ospedali, perché la situazione degli ospedali della Lombardia è tale per cui non c'è più bisogno dell'alleggerimento di pazienti dalle terapie intensive della Lombardia.